Lutto nel commercio nisseno. È morto Claudio Cannarozzo, a capo di diversi negozi del centro storico e in periferia. Da tempo era alle prese con una malattia, che comunque non era riuscita a tenerlo lontano dalla passione più grande, i suoi negozi, che aveva tirato su da giovanissimo. Una passione condivisa con la moglie, Ivana, i figli Christian e Daniel, la nuora morena. Da pochi giorni Claudio Cannarozzo era diventato anche nonno. La notizia dell'arrivo della nipotina gli aveva strappato un sorriso nonostante le gravi condizioni di salute. Fino alla fine Claudio Cannarozzo ha lottato con forza contro un triste destino che l'ha strappato ai suoi affetti più cari all'età di 51 anni. Di lui collaboratori, dipendenti, colleghi e amici conservano il ricordo di un commerciante vecchia maniera, come scrivono in una nota giunta in redazione. Di quelli sempre pronti ad affrontare ogni genere di avversità, di quelli che fanno poche chiacchiere e cercano sempre il modo di risolvere i problemi, concretamente. Claudio Cannarozzo era questo e molto di più. Di lui hanno un ricordo indelebile anche gli appassionati delle processioni della settimana santa, tra bare e varicede. Claudio c'era sempre, anche qui in prima linea e non da spettatore. Oggi si respira aria di profonda tristezza lungo via le Conte Testa Secca, il suo quartier generale, con i suoi negozi chiusi per lutto. I funerali domani, mercoledì 5, alle ore 16, in Cattedrale.